Questo servizio è offerto da Alberto e Barbara, Casa del Parmigiano, Box 91, Mercato Orientale. 42 precedenti a Napoli, fra i padroni di casa, vittoriosi in 17 occasioni, è la Samp, capace di espugnare 8 volte il San Paolo. Nello scorso campionato, 9 novembre 2008, Mazzarri si arrese alla sua futura squadra, cedendo 2-0. Non solo il tecnico toscano, nella sagra degli incroci curiosi, perché la rete del vantaggio partenopeo fu firmata da Daniele Mannini, in gol da pochi passi nel primo tempo su assist di Lavezzi. Sullo 0-1, gol annullato a Cassano per un fuorigioco inesistente, poi nel finale di gara, il raddoppio per la formazione di Edi Reia, firmato dal neo entrato Zalageta, ancora dopo un'iniziativa di Lavezzi. Nel torneo precedente, i blu cerchiati si arresero ad un ottimo Napoli alla terza giornata, il 16 settembre 2007, di nuovo 2-0 finale, con reti al 43esimo di Zalageta e all'81esimo di Amsic, che con uno splendido acuto personale, aveva cominciato a mostrare a tutti il suo grande talento. Fu una giornata storta per la squadra di Mazzarri, che mise fra i titolari un bastrini in chiara difficoltà, con la coppia Caracciolo-Montella evanescente in attacco. Il 2-0 ricorre facendo un passo indietro di quasi 15 anni, 2 aprile 1995, per il Napoli reti di Carbone e Agostini nel primo tempo, sulla panchina partenopea Vujadin-Boskov, in campo Fausto Pari, Renato Buso e Fabio Pecchia. Nella Samp di Eriksson invece Zenga, Gullit e Mancini, che non riuscirono a trascinare i compagni ad un risultato positivo. Il 28 aprile 1996 ancora Boskov contro Eriksson e ancora Napoli vincitore, decisivo all'86esimo un rigore di Di Napoli, che in attacco faceva coppia con il Condor Agostini. La Samp non riuscì a trovare la via della rete, nonostante il duo Mancini-Chiesa, supportato da Sedorf e Carambeau. Gara equilibrata è 1-1 finale il 23 febbraio 1997, Gigi Simoni contro Eriksson. A portare in vantaggio i padroni di casa, al 57esimo, il futuro blucerchiato Bogossian. Era un Napoli dai nomi di basso profilo, come Crasson, Aglietti, Beto e un paio di giovani promettenti, come i futuri genuani Francesco Baldini e Raffaele Longo. Nella Samp invece grandi giocatori, come Montella, Mancini e Veron, ma il pari arrivò solo in extremis, grazie a Sinisa Mialovic all'89esimo. Proprio un'autorete di Crasson, sommata al gol di Legle, decise invece per lo 0-2 la sfida del 19 aprile 1998. Ancora un Napoli in edizione minore, non tanto per Bellucci al centro dell'attacco, quanto per i vari malaffronti Asanovic, Stojak e Panarelli, tutte meteore, schiarate titolari da Montefusco. La Samp, con Boscov di nuovo in panchina, vantava invece un 11 forte dei vari Montella, Veron, Balleri e Bogossian, e il successo arrivò con relativa facilità. Il ricordo più bello per i tifosi blucerchiati resta però quello del 18 novembre 1990, doppietta di Mancini con tanto di gol capolavoro e doppietta di Vialli, a sancire l'assoluta superiorità di una Samp destinata a vincere allo Scudetto. Questo servizio è stato offerto da Alberto e Barbara, Casa del Parmigiano, Box 91, Mercato Orientale.